Allora ragazzi noi interisti siamo incredibili, incredibili apro un po' i social, vedo gente che critica addirittura Samira Andanovic l'unica pecca di Andanovic è che non è fortissimo nelle uscite alte si può criticare tecnicamente, a volte nei tiri si... ma a volte perché la maggior parte delle volte è miracoloso ogni tanto guarda la palla entrare, neanche si butta, ma non è questo il periodo gente che critica, che vuole ricordare come Andanovic mettesse il muso e volesse andare via perché voleva giocare la Champions League cioè qua stiamo parlando di persone che vanno via o possono andare via o mettono il muso o fanno le ripicche perché vogliono più soldi mentre lui giustamente come qualsiasi persona al mondo ambiva a qualcosa di meglio non qualcosa di più in fatto economico quindi ragazzi non mi paragonate a Andanovic che vuole vincere vuole giocare grandi palcoscenici ad uno che voleva solo più soldi anche nello stesso palcoscenico ok? Che significa? Se l'Inter fosse arrivato a quarta ai prossimi dieci anni gli sarebbe andato bene l'importante era guadagnare di più mentre Andanovic non ha mai fatto questioni economiche, mai fatto voleva solo per il bene della sua in primis giustamente perché una persona si vuole realizzare nel lavoro io per primo e per la squadra voleva giocare la Champions League voleva giocare partite prestigiose e giocare in palcoscenici blasonati quindi ma come mi fate a criticare Andanovic a ritirare fuori gli scazzi che aveva avuto perché nell'Inter si giocava con Jonathan con Villà è normale è normale è normale che uno si incazza, si scazza se ne vuole andare Cribbio è normale adesso siamo incredibili Icardi non va bene vuole i rinnovi ogni anno la moglie, la cosa, la vacca della moglie ok Andanovic eh ma Andanovic ma pure Andanovic avete da ridire chiedete voi chi vuole? chi vuole? Gesù di Nazareth chi volete come è capito? Padre Pio mettiamo Padre Pio mettiamo Padre Pio come capitano dai ovviamente per chi me l'ha chiesto Inter Rapid viene ragazzi io faccio i video di pancia e di cuore quindi non mi ha ispirato nulla quella partita è stato bello solo vedere il capitano quindi non cioè vedere un capitano nuovo cioè è stata una sensazione strana non so a voi però ragazzi non iniziamo i fan le fan perché queste sono prerogative delle donne fan di Cardi che criticano Andanovic ragazzi se Cardi avesse avuto la gobba e il naso a pecco non sareste così fan di Cardi ragazzi quindi non facciamo le pagliacciate e andatevi a guardare Danilo D'Ambrosio al posto di pensare ai Cardi dai grande Danilone iscrivetevi al canale forza Idr avanti cura un'altra cosa io non parlo mai di queste cose sul web però ieri per la prima volta è stato fatto entrare in Europa fuori d'Italia sono molto più avanti due striscioni per Dede e il bandierone con il suo volto commovente chiudiamo qui per la prima volta perché in Italia non si può ricordare un amico punto e basta ciao ragazzi grazie